Anche se l'ipocrisia e la contraddizione regnano sovrane, sul caso Fagioli e dobbiamo intervenire sul mercato perché povero Max senza Fagioli e Pogba come fa, dico invece che non bisognerebbe comprare nessuno altro che Turam, Hoiberg, Samargic, perché l'obiettivo è il quarto posto, non serve comprare un altro centrocampista per raggiungere un misero quarto posto. C'è Hans Nicolussi Caviglia che sta lì parcheggiato senza giocare, ha le stesse caratteristiche di Fagioli e ha già giocato in serie A. Si utilizzi lui, abbandonando appunto contraddizioni e ipocrisia che vogliono che se devi raggiungere il quarto posto sul mercato a gennaio non ci vai.